La rassegna stampa della Gazzetta del Mezzogiorno. Appalto revocato, dirigente comunale si autodenuncia. Mensa scolastica il dottor Nicola Zizi in una lettera inviata alla procura di Brindisi dopo le accuse del sindaco Consales. Il mese scorso il sindaco aveva avanzato insinuazioni circa i favoritismi fatti nel capitolato a vantaggio di qualche ditta partecipante. Corso Umberto in festa. Iniziativa, buon riscontro di gente sabato sera con musica, animazione, negozi e bar aperti sino a tarda ora. Soddisfatte le associazioni di categoria promotrici dell'evento. Perché non ripetere più spesso queste esperienze per ravvivare il centro cittadino? Consales a Bari per salvare la sanità brindisina dai tagli regionali. Oggi l'incontro vero disastro. Il sindaco a Bari per esporre alla Commissione Sanità le preoccupazioni per le conseguenze che i tagli previsti dal piano di riordino ospedaliero potranno avere sulla sanità nel brindisino. Quattro salvataggi in un'ora e mezza ieri a Lido Poste. Bagnini provvidenziali. Quattro persone salvate da annegamento in due momenti diversi. Ieri pomeriggio nella mare della spiaggia libera ex Lido Poste. Morvillo ad Inter in malpreside Giuliano strage. Azzurra oggi dovrebbe essere dimessa dal Perrino. La prima buona notizia è proprio che Azzurra, una delle ragazze ferite nell'attentato del 19 maggio scorso davanti al Morvillo Falcone, questa mattina dovrebbe essere dimessa. Rischia un altro ergastolo, ma tanto resta ai domiciliari. Sacra corona, il sanguinario boss Bullone, pentito, riprende questa mattina dinanzi alla Corte d'Assise di Appello di Lecce il processo per alcuni degli omicidi commessi e confessati da Vito Di Emidio, sanguinario criminale, pentito poche ore dopo la sua cattura avvenuta nel maggio del 2001. La rassegna stampa del quotidiano. Svolta sui corsi, riecco le auto. Da questa mattina vetture in transito sull'arteria principale, però sarà vietato parcheggiare. Da questa mattina Corso Garibaldi aperto al traffico veicolare, weekend escluso, fino al prossimo 31 dicembre. Strage distrutti alcuni reperti. Incendio a Roma nei laboratori della scientifica. Un incendio divampato nel laboratorio della polizia scientifica di Roma ha distrutto uno dei reperti dell'attentato contro il morvillo Falcone di Brindisi. La notizia del fatto è trapelata solo ieri. In difficoltà per la corrente, salvati in quattro dai bagnini. Domenica di paura al mare, tre giovani brindisini e un extra comunitario sono stati salvati dall'annegamento nelle acque davanti alla spiaggia libera dell'ex Lido Poste, dai bagnini dei vicini Lido Risorgimento e del Granchio Rosso. Appalto col trucco? Indagini. Caso Mensei, la dirigente, scrive al procuratore una lettera al procuratore per chiedergli di indagare sul proprio conto. Affirmarla il dirigente del settore attività produttive, Nicola Zizzi, dopo che il sindaco ha di fatto cestinato il bando milionario per l'aggiudicazione del servizio Mensa nelle scuole del capoluogo firmato dallo stesso Zizzi. Savelletri fa incontrare Checco Zalone e Fanta Antonio, la nuova mecca delle vacanze VIP. Estate, tempo di VIP in Puglia per Checco Zalone e Antonio Cassano, un incontro ravvicinato a Savelletri. Coach Bucchi negli States alla ricerca di nuovi campioni, sciolto anche se in maniera non definitiva il nodo Gibson, Coach Bucchi vola in America per assistere alla Summer League dove visionerà alcuni giocatori pronti per il viaggio in Italia. Grazie. 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 Grazie.